Ciao a tutti, rieccoci qua, che sto morendo di fame Allora, mi manca un po' di tutto Non si posso mangiare qualcosa? Ok Porta medicina ce l'ho, porta cibu ce l'ho Porta armi ce l'ho C'è ancora la mia arma? Sì Allora Qua cosa posso costruire? Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Marche Per arrampicarsi Pavimento Storage Fatto Fatto Ok Andiamo a Andiamo a cercare Del cibo Qua cosa c'è cresciuto qualcosa Andiamo a cercare Andiamo a cercare Oh la Cibo 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 Allora Dai Ferma Ok Ok Una Mi c'è un'altra Due 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 ...eci sono i conigli... ...eci sono i conigli... ...bueno lì... ...ok... ...eci sono i conigli... ...fui non ciò... ...OH! ... permesso... ci siamo lavati serve ancora la lucertola ecco la... piano... no! alastardino questa è entrata ecco la 3 posso tenermi 3 ecco la aloe e mele aloe non si mi hanno lasciato giù qualcosa a rompere e 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 spero che non arrivi nessuno non c'ho voglia di parlare oggi tutti quelli grossi che so che piove oh no e dammelo allora allora e 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 questo lo cucino allora il mio piano adesso è di fare 5 armature stealth e poi procurarmi abbastanza per avere un'armatura completa di scorta non domino a mangiare ok bilicine posso mettermi giù ancora? no posso solo prenderli bombe stanno arrivando ho una sola bomba ho una sola bomba e dammelo devo trovare chip procurarmi chip una bomba la tengo di emergenza faccio un po' di molot mi chiedo che arma ci andrà là? che quello spazio lì è strano e ancora una ok 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 che è complicato, prenderla a mira e perchè la pistola non va? va come se scarica, non ce l'ho qua e qui dai state lontani c'è un po troppa gente un bacche bacche, 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 bacche se riuscisse a prendere i conigli andiamo a letto allora, to super art bomby testo cosa posso fare? con questo si può fare qualcosa? non 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 Pietro 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 Pieno Pieno Buona contagente E' T Che modo per tenere accese Pieno Mi Mi e dai servirebbe solo un posto con un po' di conigli se trovassi un posto dove ci sono un po' di conigli dove costruire le trappole facendo un certo arrivo 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 su un altro il certole il certole un certole conigli un incettole io sto ne con un certole conigli e lucerto che cos'è? non ho mai visto sto grotto se non ho fatto piano 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 facciamo un secchio usiamo una torta soldi che ci fanno? corte, ce l'ho già soldi, 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 soldi lì ce l'ho nel metto puoi prenderlo? no metto lì c'è gente che dorme via prima che si svegli via 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 e dai e dai ci sei passato prima ma non ci passi più ma non ci passi scapa 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 Oh no, sono morto la prima volta nella mia vita. Oh no, sono morto la mia vita. Oh no. Oh no, sono morto la prima volta. Oh no. 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 Cos'è? Non ho capito cosa ho preso. Un gioco rotto. Un gioco rotto. Che cos'è? un gioco rotto. and die oh fuck no 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 andiamo a ottimare un'uscita setta corda dai, dov'è l'uscita? mi sono diventate impestate ste grotte non c'è Ah cavolo C'è un modo per uscire? Dai, dammi un modo per uscire Non voglio morire adesso, non voglio Corri, corri, corri Corri, corri Non voglio morire, uscito C'è un modo per uscire C'è un'ò Non c'è un modo per uscire... No, ma che palle... Dai, vattene! Quanti soldi... Dai... ... 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